Oh no, no, che spazio. Non sei completo. Zero. Sì. Perché ti sbilanci, non puoi reagire e funzionare al 100%. Sì. Può essere che tu, adesso reagisci, metti bene. Vedete? Vedete? Invece, in quel momento, quando tu facevi... Eri incompleto. Vedete? Per piccolo momento. Allora, siamo qui. Tu mi prendi, ti aggancio. Un piccolo, incompleto. Questo mi serve per fare il mio movimento. Sì. Per fare, per entrare. Tu mi attacchi. Oh, oh, oh. Io uso. Uno, due. Io entro in questa piccola porta. Come stoppi? Chi c'è? Dopo entrato? Oh, gatto. Hai visto come loro entrano? Ti è nascosto. Tu puoi essere... Nostro in trascopo è entrato. Lo stesso qui. Tu devi aprire il porto un po'. L'altitude. Sì, 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 sì. Vai, vedi qua. Sì. Ancora più volte. Sì. Ancora più volte. E poi qua devi mettere un secondo momento. Rotazioni. Prima prendi la spala. Sì. 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 Però invece tu sai come funziona. E poi ci sono angoli di attacca. Vedi? Uno. Lui crede che può difendersi. Vedi? Ti ho difeso. Invece prova a difendersi da qui. Vedi? Io quando ti attacco io sceglierò questo angolo. Però qui. Se mi prendi... Vedi come stai... Tu proprio sei proprio... Invece io voglio che ti metti in guardia come deve essere. Io andrò questo. E poi... Ti attaccherò in un modo molto più brutale. E... Come coltello. Andrò con spalla, metto tutto questo. Dentro di te. Hai capito? Io voglio che tu senti. Tocca. 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 Senti? Sì. Io voglio che tu impari ad entrare in questi posti. Perché di puro si... Prima devi... Prima devi imparare tecnica come si entra. Sì. Poi in questo... Poi in questo... Quando... Vatti vento con neve. Come si chiama questa cosa? Misculio. In questo misculio... Tu fai... Stai rossando questo misculio. Apri polvere di tuo sistema nervoso e riflessi. E poi... In questo misculio... Come lo vedete che tu sei così. Invece tu sempre... Sei sempre pronto a esplodare. Poi... Uh... 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 Dipendi. E qui... Se... Vedi che lui è scoperto... Poi poi... PAM! Si è entrato. Capisci? Ieri ho visto... Contromovimento di... Quando io entro così. E loro mi prendono di collo. I ragazzi prendono così e fanno... Proiezioni così. Si vedono che ti prendono di collo? Sì. Ti proiettano direttamente così... Buttando... Pessa. Con testa. E lui quando vedi questo... Si. Tu puoi fare anche... In metà di capriolo. Vedi? Te faccio... PAM! E lui mi prende. Vedi? Io vado... Piano piano... Vedi? Vedi cosa succede? Così sarà. Si. Tu deve sapere... No... Non lo dico così. Si io subito mi apro... Si si no... O vado... Capisci? Vedi? Tua difesa in questo caso... Capriolo... Indietro. Non è sempre quasi... Capriolo... Indietro... Dessere... Si si ma... O nero... 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 Ves... Mi interesa, lpo senta, che tante,يudi come il drije little... Oi.... Ves-es... O nero... Ves-es... O nero... O nero... Si... Sì... O nero... Westa gara... Undra... O nero... Oh, bellissimo!